bello ragazzi abbiamo di questo nuovo video io sono fame e oggi siamo qui sul mio canale con un nuovo video ovvero le badwars nel server di fear games che vi lascio lì in descrizione oppure potete leggerlo ora appunto sulla sulla destra allora andiamo a cercare una badwars che tra poco questa quasi libererà che vorrei fare quella appunto e niente aspettiamo che si libera ah comunque ragazzi aspettando il riavvio della mappa volevo dirvi grazie davvero grazie ok per le quasi 30 views sul video di ieri e so per cento che in meno di un'ora abbiamo fatto più di 10 views e questo è davvero un grandissimo traguardo ragazzi grazie mille sul serio sono molto grato di tutto ciò è per me una grande soddisfazione in poche parole ah perdo sempre qua vabbè comunque aspettiamo che si riavvia questa partita ok ragazzi finalmente si è liberata la partita e direi di entrare subito la mappa è candyland l'ho giocata più volte c'è un bel team facciamo team celesti e la partita ora ha inizio sperando in bene non voglio vincerla ma almeno non voglio fare brutte figure ok la partita è iniziata prendiamo un po' di bronzo e andiamo al centro così siamo i primi ad avere l'oro ok ragazzi prepidiamoci tutto l'oro benissimo direi che siamo già iniziati abbastanza bene si dai abbastanza bene ok ora apriamoci il ferro non facciamo arrivare nessuno al centro che l'oro deve essere solo nostro altrimenti ci uccidono ok ragazzi ora vediamo di fare l'arco oppure non lo so forse risparmio sull'ender pair però non lo so no che ho fatto che idiota che sono dobbiamo vendere l'endstone ecco nessuno al centro questo va molto bene anche se potrebbero fare anche così che col ferro si prendono si prendono in realtà la spada davvero? cioè sul serio vabbè non fa niente allora giochiamo senza letto ah giusto non so perché l'ho non ci credo vabbè prima partita persa vediamo la seconda ok ragazzi dopo 30 anni si è riavviata un'altra c'è un'altra partita ora siamo nella mappa crane sempre una 8x1 sempre stesso server ovviamente e e niente ah stiamo che la partita inizia appunto ok ragazzi iniziando 2 1 secondo ok eccola ah sta mappa è carina dai mi piace tanto deve renderci sempre i blocchi per avvantaggiarci il ponte questa mappa ha un vantaggio credo più che altro perché le isole sono sono ugualmente distanti dal centro tipo nella mappa di prima ho scelto c'è l'essere perché era una delle isole che era più vicino ok facciamo il ponte e poi al centro andiamo ok ragazzi siamo al centro ora ci faremo più o meno 16 di oro e ci faremo la spada non mi ricordo se in questa mappa c'è la spada oppure la scia la scia dorata però la scia dorata mi fa un po' diciamo non è tanto buona non capisco perché hanno messo a posto la spada in alcune mappe però ora vediamo e ho visto qui la spada bene e no al centro non verrà nessuno ok ora ovviamente va anche per provarmi a rompere il letto so che ora qualcuno ci proverà però non è che mi interessa tanto non ci credo che oddio non ci credo davvero c'è sul serio ok vorrà dire che ora andiamo sopra spacchiamo qui spacchiamo il letto e ora il team verdi cercherà di scappare e con un bell'arco e con un bell'arco ok ucciso bene bene e con un bell'arco ok abbiamo anche ucciso un altro va benissimo ragazzo se non parlo quando quando sto parlando ai rossi mi pare di aver ucciso cioè di aver spaccato il letto però aspettate un attimo i verdi eliminati i bianchi li eliminati il rosso ho solo rotto il letto ok iddiamolo 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 ok ho eliminato anche lui il team rosso ok l'ho rotto l'ho rotto oddio su serio sto senza cibo ma quanto posso essere idiota mandiamoci anche una mela d'oro va bene andiamo ora su questi sto sperando che qui c'è l'arancione ah stanno timmando addio bene ho rotto il team rosa e ho vinto la partita grande quanti letti 12 letti ho rotto ah del bedos in generale ok va bene e la seconda partita è andata piuttosto bene ora vediamo l'ultima partita vediamo se c'è un ah questa qua sta raviando va bene facciamo subito la la prossima team celesti che a quanto pare porta fortuna direi usare la stessa tattica direi usare ovvero il prima andare a centro e poi tutto il resto e comunque raga volevo avvisarvi che tra un po' mi comprerò in minecraft c'è il gioco completo quindi andremo anche su altri server molto più belli tipo i pixel oppure alcuni server tedeschi che li adoro perché sono forti davvero e anche perché io parlo tedesco abitavo in germania prima e li conosco alcuni server tedeschi tipo gomme hd che ho attivo 20.000 posti ed è sempre pieno quel server oddio iniziamo malissimo iniziamo davvero ma davvero male iniziamo non va per niente bene non va per niente bene oddio no non iniziamo male vi prego che potremmo fare è e andare a spaccare i letti l'unica cosa che potremmo fare si ma lui campera al centro e si crede dice cioè non campera al centro campera sul suo ponte i rossi sono stati eliminati si sono stati eliminati i rossi poi viene un dadito e mi uccide che idiota oddio è davvero ma davvero ma davvero uno perché cioè non capito che ci trova di divertente nel vos spammare qualcuno ancora madonna non ci credo da una mucca ora non viene da me no ora spai in davanti godo 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 tantissimo oddio andiamo al centro il più presto possibile ma come fa ad avere di nuovo l'arco ma costa poco vabbè ho perso ho perso anche sta partita vabbè raga ho perso anche l'ultima partita voglio dire che la seconda è stata abbastanza carina allora per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto se si lasciano mi piace iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao 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 ciao